da pace libera tutti luigi dal cin ranocchi nel fango i ranocchi amano sguazzare nel fango se la spassano ad imbrattarsi di fango viscido e finché non sono completamente impegolati di melma lurida non sono felici il fango se lo impataccano sulla testa se lo spalmano sugli occhi se ne inzaccherano persino le orecchie questa è la loro vita ed è sempre stato così tranne una volta fu quella volta che nel fossato del castello arrivò un nuovo ranocchio era un ranocchietto striminzito e sembrava spaventato da tutto vagava vacillando sulla sponda fangosa del fossato vieni piccolo gli disse la signora balzelli non temere hai fame vuoi qualcosa da mangiare il piccolo ranocchio a lui la signora balzelli gli infilò in gola una mosca secca il piccolo ranocchio tossì e sputò che schifo disse ah cominciamo bene disse la signora balzelli come ti chiami non lo so rispose il piccolo ranocchio come non lo sai da dove vieni allora non mi ricordo più niente deve essere un caso di amnesia disse il signor balzelli che nel frattempo era tornato dalla caccia guarda caro che hai le zampe tutte pulite gli fece notare la signora balzelli prima di entrare in casa vedi di impiastricciartele per benino di fango per favore che ho passato tutta la mattina a insaccherare di fango il pavimento il signor balzelli ritornò subito dopo tutto emelmato dalla testa ai piedi e sistemò sul tavolo un sacchetto pieno di insetti pieno di insetti e vermi morti vediamo cosa mangiamo stasera ecco qua guarda piccolo ti andrebbe un minestrone di lombrico tagliato fino fino e non saprei signora io o non chiamarmi signora chiamami pure zialelli finché non troveremo i tuoi veri genitori con noi sarai al sicuro vero caro ma certo disse il signor balzelli e gli lasciò una manata fangosa sulle spalle verdine ti piacerebbe se ti chiamassimo ranuncolo è piccolo va bene disse il ranocchio e ora si mangia disse zialelli dove vai ranuncolo chiese zio balzo e vado a lavarmi le mani zio sono tutte sporche ma cosa serve lavarsi le mani chiese zialelli spalancando gli occhi ma come zia serve ad essere puliti dai piccolo vieni qui che ti spalmo addosso un po di fango e ti sciacquo le orecchie con le alghe no ti prego zia il fango non fa per me è troppo melmoso è sporco non sei mai visto un ranocchio che non ami il fango viscido che ti si spalma flaccido sul collo per poi colare molliccio sulle spalle e poi sussurrò quella sera zio balzo a zialelli non appena fu sicuro che il piccolo ranocchio si era addormentato caro parla piano ranuncolo è ancora giovane rispose zialelli tagli tempo certe cose si apprezzano crescendo con gli anni ti ricordi che quando ci siamo conosciuti non ti piaceva il fegato di zanzara e adesso hai ragione cara in ogni caso non dobbiamo forzarlo da quel giorno ranuncolo abitò insieme a zialelli e a zio balzo e fece subito amicizia con gli altri ranocchietti del fossato fin da principio apparve chiaro a tutti che il ranuncolo non era un ranocchio come tutti gli altri vieni a tuffarti nella melma con noi gli chiedevano ma così vi sporcherete tutti diceva ranuncolo certo ci insaccheriamo si ci impastricciamo di fango vedrai sarà bellissimo grazie amici ma preferisco rimanere pulito che schifo dicevano i ranocchi pulito e ad uno ad uno si tuffavano scomparendo nella melma che si richiudeva viscida e nera sopra di loro i primi tempi alcuni ranocchi lo prendevano in giro per la pulizia e ranuncolo tornava a casa piangendo zialelli zio balzo dove siete ed ecco che i loro grossi occhi emergevano dal fango i miei amici dicono che ho qualcosa che non va dicono che ho l'igenite oh questa poi diceva zio balzo l'igenite non esiste e tu non hai niente che non vada bene solo che sei un ranocchio speciale zialelli e zio balzo non lo forzarono mai a vivere nel fango lo amavano e lo rispettavano fino in fondo tuttavia certe sere quando ranuncolo lo era già letto parlavano sottovoce forse esistono delle specie di ranocchi che non amano il fango diceva zialelli ho fatto le mie ricerche e non mi risulta proprio diceva zio balzo e poi ci sono altri misteri perché i ranocchi genitori di ranuncolo non si sono fatti vedere nonostante tutti gli annunci che abbiamo messo qui in giro penso che per ranuncolo sarebbe molto importante poterli riconoscere e forse anche loro hanno perso la memoria come lui poverino un bel mistero con zio balzo e zialelli ranuncolo si sentiva davvero a casa e acquistò fiducia in se stesso zio balzo gli costruì una camera tutta per lui sopra una foglia di ninfea luccicava al sole da quanto la teneva pulita dal fango e anche i suoi amici ranocchietti cominciarono ad apprezzarlo nonostante amasse la pulizia ad esempio ranuncolo sapeva inventare dei giochi che gli altri ranocchi non si immaginavano nemmeno come saltare da una foglia di ninfea all'altra senza cadere nel fango anche se poi c'erano sempre dei ranocchi che non resistevano e si tuffavano non appena vedevano un po' di poltiglia melmosa perché non giochiamo a cavalcare disse una volta ranuncolo deve essere bellissimo cavalcare i cavalli ma non i cavalli rispose ranuncolo potremmo cavalcare i pesci così ogni ranocchio si costruì un lazzo o dalga con cui catturare un pesce e se riusciva poi a salirgli in groppa era fatta il pesce era stato domato e andavano veloci i piccoli ranocchi si divertivano tutti a cavalcare anche se immancabilmente per ognuno veniva poi il momento in cui non resisteva più balzava dal pesce e doveva spanciarsi nel fango lurido imbrattarsi per bene tranne ranuncolo ovviamente il tempo intanto passava e ranuncolo era diventato un bel ranocchio adulto che sapeva a badare a se stesso adesso a volte era lui a preparare il pranzo per zia lelli e zio balzo ha inventato ricette un po' strane notava zia lelli però questa roba che hai cucinato è buona anche se non ci sono i vermi dentro un giorno nel castello si tennero dei festeggiamenti per un torneo di cavalieri le grida e le musiche arrivavano fino al fossato arrivavano anche dei sassi alcuni bambini dal ponte avevano cominciato a tirare dei sassi nell'acqua per divertirsi tutti i ranocchi si erano immersi nel fango per sfuggire alla grandinata tutti tranne ranuncolo che era rimasto sulla sua foglia splendente spaventosi bambini disse zio balzo con una bolla melmosa era immerso completamente nel fango e sporgevano solo i suoi grossi occhi dai zio guardali bene non sono carini disse ranuncolo dalla sua lucida foglia di ninfea carini un corno ci tirano i sassi in testa adesso sei mimetizzato sulla foglia ma prova per sbaglio a muoverti e vedrai come ti inseguiranno gridando tutti i bambini nel salone si udì dal ponte c'è la torta per voi cosa stavate facendo qui oh niente tiravamo i sassi nell'acqua rispose uno dei bambini avete controllato di non colpire nessun animale sì certo ma non ce ne sono neanche una rana laggiù c'è solo una poltiglia fangosa viscida e sporca fu a quel punto che si affacciò dal ponte e i suoi occhi furono attirati da qualcosa che brillava sulla superficie dell'acqua una foglia di ninfea lucidissima e sopra si ritrasse dal ponte zio disse ranuncolo con la voce che gli tremava si è affacciata una ragazza penso che mi abbia visto tuffati nel fango ranuncolo gli gridò zio balzo presto scappa di lei è la figlia della cuoca adesso cercherà di catturarti per farti fritto a cena salta ranuncolo gracidava zialelli nasconditi qui nel fango la ragazza intanto era già sulla riva del fossato e stava entrando nel fango con l'intenzione evidente di raggiungere la foglia di ninfea su cui ranuncolo rimaneva ancora immobile scappa ranuncolo sei fritto ma ranuncolo sembrava incantato la ragazza afferrò quello strano ranocchio tutto pulito e profumato e senza sapere bene il perché il per come lo baciò ranuncolo non capì bene cosa stava succedendo ma ci fu un lampo e alla fine si ritrovò trasformato in un principe azzurro ecco perché non mi piaceva il fango esclamò subito ranuncolo zio balzo zialelli io non sono un ranocchio sono un principe azzurro e io sono una principessa disse la ragazza che lo aveva baciato giusto per mettere le cose in chiaro il principe ranuncolo venne condotto al castello li riabbracciò i suoi genitori il re e la regina che dopo averlo cercato in ogni angolo del regno si erano rassegnati e pensavano di averlo perduto per sempre vai tu a pensare che un incantesimo lo aveva trasformato in un ranocchio ranuncolo e la principessa che con il suo bacio aveva rotto l'incantesimo impararono a conoscersi e si innamorarono al punto giusto si celebrarono le nozze e vissero per sempre felici insieme ma nelle calde sere d'estate quando tutti gli ambasciatori se ne erano andati ranuncolo e la principessa si toglievano i pesanti abiti da cerimonia e via un tuffo nel fossato finalmente insieme a zio balzo e a lelli e agli amici ranocchi